Ciao a tutti! Oggi prepareremo l'aroma per panettone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Ingredienti sono arancia candida, cedro candito, la scorza di un'arancia, la scorza di un limone, miele, acqua, zucchero, aroma di vaniglia, un pizzico di sale, rum e aroma di mandorle. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la scorza di arancia e di limone, l'arancia candida, il cedro candito ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 8. Mettere da parte il trido senza lavare il boccale mettere l'acqua lo zucchero, il sale, la vaniglia e l'aroma di mandorle. ed azioniamo il bimbi per 3 minuti, 60 gradi, velocità 2. unire il trido di arancia il miele ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 6. unire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere il rum ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 8. l'aroma è pronto, trasferiamolo in un vasetto di vetro a chiesura ermetica. un cucchiaino e mezzo di preparato ogni 500 grammi di farina si conserva in frigo per 10 giorni oppure è possibile congelarlo grazie e alla prossima ricetta e alla prossima ricetta